In occasione del Carnevale, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i servizi per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale, predisponendo un apposito piano di controlli che ha portato al sequestro di oltre 110.000 prodotti non a norma. Nel corso degli interventi, le Fiamme Gialle hanno individuato gli anelli deboli di alcune filiere distributive dell'Agro Nocerino Sarnese e del Salernitano, che vendevano oggettistica di vario genere, priva del marchio CE e della necessaria descrizione in lingua italiana. Solo nel capoluogo, in due distinte operazioni, sono stati cautelati circa 82.000 tra vestiti, maschere, cappelli e giochi, come pure detersivi e prodotti per l'igiene e la cura della persona, senza alcuna indicazione in ordine alla provenienza e alle essenziali caratteristiche merceologiche. Risultati analoghi sono stati conseguiti anche nel Cilento. Ad Ascea, in provincia di Salerno, i finanzieri di Vallo della Lucania hanno ispezionato il carico di un furgone riconducibile ad una ditta cinese che, già dal confronto con le fatture esibite, aveva evidenziato le prime incongruenze. I militari hanno quindi proseguito il controllo presso il punto vendita, dove hanno scoperto quasi 30.000 articoli carnevaleschi e di bigiotteria sprovvisti dell'etichetta e non recanti alcuna informazione sulla tipologia dei materiali. I militari hanno immediatamente provveduto al ritiro dal mercato dei prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sottoponendo a sequestro amministrativo un totale di oltre 110.000 pezzi che, con la vendita al dettaglio, avrebbero fruttato diverse migliaia di euro. I titolari degli esercizi coinvolti sono stati intanto segnalati alla Camera di Commercio di Salerno competente per l'irrogazione della specifica sanzione amministrativa che può arrivare fino a 30.000 euro.